Musica Vieni, vieni, vieni! Mi sapeva dove devo caricare l'arma, era distrattissimo. Mi sono sorpreso avuto a Bendi che ha messo le pallotole al contrario. Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni. mi sono proprio sentito che ho deluso il mio istruttore in quel momento non ci vedo più stop il 6921 li ho visti arrivare sudati, li ho visti arrivare spompati ho detto io dove vado la parte difficile di tutto l'esercizio non è tanto la parte atletica sennò qualsiasi mezzofondista potrebbe essere un bodyguard di questo qua la parte difficile è essere concentrati quando si è sotto stress e alla prossima buca